Buongiorno carissimi, il canale del mio viaggio Virtual Tour di Torino. Ecco, oggi siamo zona strada delle Cacce. Perché mi trovo qui? Ci troviamo qui, io e il mio amico. Perché oggi stiamo visitando quello che sarà il nuovo centro sportivo Robaldo delle Giovanini del Torino. Come potrete vedere, adesso stanno facendo i lavori ovviamente, qui sorgerà entro maggio 2025 il compresso dei campi delle Giovanini del Torino. Qualcosa di innovativo, qualcosa che ovviamente per chi piace lo sport, è appassionato ovviamente, è molto gradito. E soprattutto è anche un investimento da parte della Società del Toro di poter mettere a disposizione questi campi per il settore giovanile dei ragazzi. E sicuramente sarà anche un'occasione di poter anche visionare le partite dal vivo. E quindi è un'occasione per coloro che sono amanti di questo sport, di poter appunto cimentarsi e vedere da vicino questi nuovi talenti che un giorno andranno sicuramente a giocare o in prima squadra o in altre squadre. Quindi vi invito, se avrete l'opportunità e il piacere, di assistere a questo evento che ci sarà, che partirà da maggio 2025. Buona giornata a tutti!